Signorita Signorita Sì, 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 sì... Qu'està? Dime l'attentere Quando mi piace di la pace Mi parecen che par controller, par da sento Parla del mio Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 Ehm, ehm Ehm, ehm Aferrito no, non volver Non volver Ah, non se va Non, non se va Non se va Non, non, non Andate, andate Sì, tutti me rechazano, me vengono sola, me dice che no. Sì, tutti tutti, Servina? Sì, tutti. Ah, no, no, no. Sì, io sei che ti tratté male, facciamo un spazio. Io voglio casarmi con Humberto. No! Io le ho detto che non può obligare a nessuno a casarci con lui. Se ne ho capito una idea. Se io mi caso con Humberto, va a essere il miglior pago. Però che ne acabo di vedere? Ne c'è stato che mi asunto di. Però, Servina, che ne dice? Si è tardi di andare. Oh, ah, bueno, uno le hable a questa ora, no, non le falta il servidor. Tengo idea. Anda, busca un sombrero. Una roceneante. Tu fiesta. Pondes in quince minuti. Anda a tu fiesta, busca un sombrero. Una roceneante. Te vestiste cambiare. Y en quince minuti saligo el que es la puerta. Que no se... Ah, sì. Tengo miedo. Tengo miedo. Doctora, tengo miedo. No, basta tu miei. Tengo pa' dolarlo. No, pero yo estoy a caminar de tener una roceneante. Pero, ¿esto qué? No. No. Respira profundo. ¿Cuándo entra? ¿Cuándo entra? No te hagas problema. Estamos acá, no te hagas problema. Respira profundo. No. Ay, lo puedo acabar. No. Mentira. Hola. Hola. Humberto, no lo veo. No lo veo. A ver, que vuelva la luz. Que vuel... Ah, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal? Grazie a tutti.